Dalle prime ore dell'alba la polizia di Stato e l'arma dei carabinieri su delega della procura della Repubblica di Napoli, direzione distrettuale antimafia, stanno dando esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cartelari nei confronti di 16 persone, gravemente iniziata a vario titolo di associazione mafiosa, detenzione e porto di armi, associazione finalizzata a traffico di sostanze stupefacenti, estorsione ai danni di imprenditori e commercianti tra ponticelli e diversi comuni dell'area vesuviana. Il provvedimento cartelare costituisce l'esito di articolata attività di indagine che dal 2016 al 2019 ha consentito di svelare l'esistenza e l'operatività di due distinte consorterie camorristiche, una costituente di fatto un'articolazione territoriale del clan Mazzarella di Napoli e l'altra costituente di fatto un'articolazione territoriale del clan napoletano De Luca Bossa Schisa Minichini.